Il Movimento Politico Libertas è in Turre in Sicilia. Ascoltiamo il segretario regionale, Tommaso Locicero. Stiamo iniziando a riorganizzare il partito in Sicilia dagli uomini. Dagli uomini, sto selezionando tutto il gruppo per fare i coordinamenti provinciali. Chiaramente è iniziare proprio dalla provincia di ogni città della Sicilia per poi avere una rete di persone che si adoperano per il collettivo. Da dove Libertas sta tornando con gran forza anche a livello nazionale con il nostro presidente Antonio Fierro, il nostro segretario nazionale Paolo Magli. Stiamo cercando di far torno a questo partito come quando era uno dei partiti più forti in Italia e poteva dire anche la sua a livello progettuale per l'Italia intera. Io come segretario regionale in Sicilia cercherò di andare a recuperare quei consensi in Sicilia perché dalla Sicilia è partita la democrazia cristiana e stiamo lavorando per tornare ad avere quei consensi che ci permettono di promuovere di nuovo il lavoro in Sicilia e tutto quello di cui noi siamo stati un po' abbandonati in questi anni da altri movimenti politici che hanno governato senza produrre nulla. Siamo sempre allo stesso punto come vent'anni fa. Siamo in uno stallo completo.